Nella parte mia mi sembro orinato, purché riesco a mangiare tutto, anche sorridere. Avendo i problemi dei miei denti, ho cercato di ripararli la prima parte, molto tempo fa, nel 2005, in Albania, però questi non erano una soluzione definitiva perché i ponti non tengono all'infinità. E dopo, nel 2018-2019, quando ho perso tutti i miei ponti, avevo difficoltà di mangiare. Non riuscivo più, perché è l'ultimo ponte che è caduto, mentre che mosticcavo un pezzo di pane. E a questo punto sono rimasto senza denti e cercavo una soluzione che era, diciamo... Perché mi sono girato anche in Italia. Mi sono girato anche in Italia, sono dei prezzi proibitivi. Per le tasche di una persona che hanno dei redditi molto sufficienti, hanno fatica a arrivare a fine mese. A questo punto, mentre che scorrevo sui social, mi imbatto su Dottor Palmes. Ho visto le recensioni che c'erano, mi sono convinto che non è uno fasulo, perché ci sono tanti fasuli in giro che promettono mare e monti e alla fine ti trovi della paglia in mano. Ho fatto, diciamo, le mie ricerche e mi sono convinto. Mi sono messo in contatto con la clinica, mi hanno ricontattato. Ho preso questa decisione e mi sono avviato. Qui si parla tutto italiano, non hai la difficoltà di comunicazione. È come una grande famiglia, ti trovi abbastanza accolti. È un po', diciamo, perché, come? Devo venire dall'Italia io per avere questo trattamento qua? Io lo consiglierei a tutti. Nella parte mia mi sembro rinato, perché riesco a mangiare tutto, anche sorridere. Ah, non facci vedere quando ero che mi usciva quella parte che mancava qua, che era orribile, mi sembravo, diciamo, un vampiro.